Dai un'occhiata a questa immagine. Riesci a vedere una donna mentre dorme? Sembra impossibile. Puoi provare a ruotare lo smartphone, ma è difficile da trovare. Se riesci a trovarla, fammelo sapere nei commenti. Se invece non riesci a trovarla, puoi trovare nelle mie storie di Instagram la soluzione a questo enigma.